Gentili telespettatori, buona giornata, la segna stampa di oggi, domenica 17 marzo 2024, Corriere della Sera. Voto caos nel centro-sinistra, Basilicata lascia il candidato del campo largo, Piemonte, PD e 5 Stelle, Divisi, Conte, clima incandescente, Salvini basta inciuci, von der Leyen, complice dei disastri, e poi le azioni contro Israele, le proteste nelle università verso una stretta del Viminale, e Meloni la missione in Egitto, e poi vediamo supermissili all'Ucraina, è rischioso, Parigi-Berlino parla cavo-dragone. Team tornata competitiva dopo la caduta in borsa, e il dramma dei migranti non basta un film. Sei nazioni, miglior risultato di sempre degli azzurri, battuto anche il Galles, italrembi da favola. E adesso andiamo a vedere la Repubblica che titola paura per l'Ucraina, elezioni in Russia, oggi la protesta nei seggi nel nome di Navalny, l'offensiva di Mosca, e poi vediamo le parole che non hanno voluto ascoltare, in Basilicata il campo largo va in tilt, la cerenza, l'oculista, quello che non li aveva visti arrivare, si è ritirato. E poi andiamo a vedere il paese del potere multietnico, Sunak Yusaf e ora Geting. Andiamo adesso, passiamo a la stampa che titola Ucraina a rischio escalation, Meloni cerca l'asse, Stati Uniti, Unione Europea. Seggi aperti in Russia fino a stasera, attenzione alle urne, Putin riconferma farsa. E poi l'ipotesi in vista del G7, Macron rompe il fronte europeo. E vediamo adesso droni su casa Elkan, querelato Vespa, violate la privacy e la sicurezza. Poi il centrodestra, quel furore di Salvini che inguaia la Lega, Basilicata e Piemonte, il flop del campo largo messo in una notizia in basso a destra, come se non fosse importante. Andiamo adesso a vedere Libero Quotidiano che titola La ricetta Schlein Conte, Bollino Piemontese e Amaro Lucano. Regionali il campo largo alle comiche finali, in Basilicata si ritira il candidato grillino appena presentato, a Torino il 5 Stelle scarica il PD. I Renziani a potenza si schierano con il centrodestra. In vendita anche i giornali, Elkan in crisi di nervi, denuncia i droni di Vespa. E poi lo sballo del mattone, tempesta perfetta sulla casa, investimenti a rischio tra tasse e leggi europee. E poi i commenti, voto in vista la sinistra frena sulle ecofollie, assalto verde alla nostra ricchezza di Daniele. Capezzone, scuola chiusa per Ramadan in Lombardia. Il caso e le polemiche a Pioltello. Andiamo adesso a vedere il giornale che titola Allarmi Atenei sono covi di intolleranza, vecchie ideologie, i collettivi di sinistra spadroneggiano e vogliono impedire di parlare a chi non la pensa come loro. Insulti della Balzerani quando la BR sbeffeggiava la di Cesare. E poi elezioni regionali, campo largo nel caos, Renzi va con le destre. In Basilicata la Cerenza rifiuta la candidatura del centrosinistra, Italia Viva appoggia. Bardi. Salvini detta la linea, Sarò in piazza il 25 aprile, oltre il 10 per cento alle europee. E poi la Meloni in Egitto con 7 miliardi di aiuti, migranti sbarchi giù del 67 per cento. Andiamo adesso a vedere il fatto quotidiano che titola Oggi Ucraina e truppe inutili, se va bene, regge fino all'autunno. E poi è scoppia il PD, non c'è più il campo. Piemonte-Basilicata, Arasse e Bonacciniani contro Asse-Schlein-Conte. La Cerenza lascia, Lucania, Margiotta fa sponda con Pittella e gli ex-Renziani e fa saltare il candidato comune. Con i 5 Stelle i dem piemontesi vanno da soli. Andiamo adesso a vedere la verità PM, giornali e 007, Quirinale, così la morsa mi ha fatto fuori. Parla l'ex numero due dell'antimafia, Alberto Cisterna. La toga racconta di come si è finita stritolata per aver osato candidarsi in una procura già assegnata dalle correnti. Un pentito mi accusa e le carte dell'inchiesta finiscono al colle. Il giorno dell'interrogatorio un articolo in prima sul Corriere spiattella tutto. Dal circuito media servizi giudici non si può uscire. E poi Macron, Kiev e noi per fermare Puti, la Nato apre il fronte dell'Artico. Con la guerra Parigi vuole punire Berlino e guidare l'Unione Europea, ma intanto la Francia fa affari atomici con Mosca. Prodi rottama la linea, il Green Deal, un disastro. E poi Campolargo, Nostascio, doppia figuraccia PD 5 Stelle in Basilicata e Piemonte. Il candidato alla cerenza si ritira e Renzi si schiera con la destra. Torino niente intesa. I dem buttano lì un nome pronto a saltare, un nome a caso. Oggi la Meloni va in Egitto a blindare il patto delle piramidi, lo scenario dietro la missione. Intanto lui querela la troupe di Vespa. La sinistra aiuta John Elkan a piazzare la Repubblica. E poi mascherini ai bimbi e scuole chiuse, inutili, calorose e tardive rilevazioni dall'Inghilterra sulla gestione del Covid. Andiamo adesso a vedere. Il tempo purtroppo non è pronto. Quello è quello di ieri, di sabato. E andiamo adesso a vedere il sole 24 ore. Vediamo se è pronto. Allora, l'inflazione a febbraio ferma allo 0,8%. Il carrello della spesa cala dal 5,1% al 3,4%. E poi in ballaggi passa l'accordo in Unione Europea. Meloni difesa la nostra industria. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.